La Chi è un po' più male che vuole andare su? C'è una questione etica Anzi, si può chiudere Allora, intanto questa è un'ipotesi sia per oggi Questo è un esperimento che ci sono con gli attori e questo è un'imagine interessante Già quando saranno arrivate a terra È interessante per oggi perché è un punto di partenza per questo Cioè noi attaccheremo le sedie con le cose Adesso accendiamo le lucette e tiriamo su Allora, sono delle lucette che non bisogna del nastro Quindi bisogna che chi si occupa di questo lo faccia Cioè uno che è quello più suonso Tutti gli altri alle gare Bisogna il nastro per fissare quelli che sono il pulsante Ma se lasciamo un bel destino di nastro legato alla Sì, va bene Allora riportiamoci lì per l'arroco e lo rispondiamo Perché ora dobbiamo contare tutto E sganciare l'arroco, se no ma di domani non ci abbiamo più Eh, e dobbiamo anche essere veloci perché sono il fine, diciamo Eh, proviamo a salire l'intervento Allora, proviamo a fare un movimento letto di salita Se si conosce le coppie Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì C'è un via che non so quale sarà oggi, eh Perché ovviamente faremo il buio Calma Allora Allora Proviamo la magia Qua si è abbastanza Qui ci sono 10 cose in fondo o a sinistra Ma adesso non è importante che uno abbia la terza da sinistra Cioè l'importante è che ognuno si ha una cosa e non credo che ce la facciamo coprire le tutte No? No No Quindi è una sequenza Naturalmente è importante che sappiamo chi c'è oggi e chi c'è domani a fare questo lavoro Sì, io C'è qualcuno che ha taggato un accordo a pochi e non ci sarà né oggi né domani? Io Camilla Camilla No, domani ci succede, domani quando c'è il palico e il pomeriggio non ci sono Eh, va bene Adesso parlo Piazzapiamo perché c'è la copia un po' Va bene Perché non tiri nulla tu? No Qui c'è nulla aspetta Grazie a tutti Grazie. Grazie. Va bene, ci siamo? Ci siamo! Ci siamo, la posso tenere. Oh, oggi il lavoro sarà il silenzio assoluto e non è lo stesso, eh? Quindi si deve capire qual è un segnale per tutti. Il segnale per oggi può essere che siccome abbiamo i domino accesi, perché noi lavoravo qui il domino prima, uno va a spegnerli. Chi lo fa? Allora, per il numero sono i domino? No, no, però il pomeriggio tu non ci stai, quindi deve essere chi lo fa. Ma l'agente si spiega. Ma perché io l'ho passata? Alessandra, tu ci stai oggi alle 5? Sì. Allora, vieni qua. Ma vorrei vedere come si spegne? Com'è? Sì. Ma non ho capito, l'agente in generale le sedie sono il suo Paolo. Io parlo di oggi pomeriggio. Ah, ok. No, no, no. Oggi come venito noi arriviamo, cadiamo le corde, prendiamo le sedie, leghiamo le sedie, attacchiamo le pilette, le accendiamo e le portiamo su. Però il via per portarle su è dato al fatto che i domino si spengono. Quando c'è buio, anzi, potremmo fare un'altra cosa ancora. attacchiamo le pilette spente. Quando c'è il buio, le accendiamo. Poi alle corde e cominciamo a tirare casualmente. però il problema è trovare soltanto una velocità che non sia al nuovo oggetto, proprio mobile, eh. Ci siamo per lo spegnimento? Sì. Vai. Prezarmi Eете주vi. Davidevi, ability. dovrei dire qua poi paolo. Io dovrei dire qua poi ero qua ora. Vediamo. Sentitevi anche voi. che voglio mi. buglio. Pagano, pagano, pagano. Pagano, pagano, pagano. C'è un po' molto più. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Pagano, pagano. Pagano, pagano, paga. Pagano, pagano, paga, paga. Pagano, paga. Stop, stop, stop. Fai a prendere la volta. Eh. Guarda che la luce in parco sta andando. Pagano, ma che piante stai a fare? No, stai cercando di chiedere. Soprattutto quelle davanti Queste possono andare No, se già sono più bucci, attenzione Bucci, magari non ci sarà più No, ce lo mettiamo sotto Ecco, basta, basta, basta Legate Tutti sanno legare? Voglio sentire anche un no In quel caso vado tutti lato Tutti? Sì, legate Legate Grazie Parliamo dopo, scusa Se no ci sentiamo Questa è Domani Se immaginiamo che domani sarà così Le vogliamo vedere proprio da sola, da sola, da sola Sì Sì Arrivare la città La nostra città Non ci accende Per sapere qual è Ci sono degli incontri in giro C'è alcune Io c'ho questa Sicuramente la pasta Nel supporto La città L'americana Che è un po' Sì Io c'è anche un po' Sì Perché chi sta qui E vede queste stelle Io ve lo dico Quando ho fatto delle stelle Che mi fa un'altra Non c'è qualcosa di difficile Perché se ne andavano Se scomparino Che sono l'alumente Perché se ne andano la montagna Ma guardate che fai Le stelle Se ne andavano pure le cose Se ne andavano pure le cose Se ne andavano pure le cose Che la porta a stelle Ma non c'è Non c'è Non c'è Forse la stelle Cioè il fatto che sia una distanza Diverte Dà un po' La sensazione anche Spaziale Delle cose Quindi Ma guardate Quanto non ci sono Come un padre In questa parte dietro Qua che già Ce n'è una Da su in cima Ce n'è una Che frega lassù Eh Ma come nella vita Quando stiamo Andando su la stessa Lì Le cose Le cose O si fanno Dei sedi Stabiliti prima Per cui Siamo Per un insieme Un tempo E lo abbiamo Moltissimo Cioè Perchè Perchè Una regola Un pagordo O se no Se dobbiamo fare una cosa Recitativa Pure noi Nel senso Che andiamo Due a scherzo Nozze Se prendiamo le sedi Però noi dobbiamo essere Un po' Però Scusami Tu Noi di sera Ho fatto Sulle sedi In aria Sì Quindi Non abbiamo Niente Perché Partiamo Una serena Quando si No Avremo il contratto Poi scenderanno Poi scendiamo Poi scendiamo Poi La gente A un tempo Del psicoso Che si deve Avvicinare La proiezione La serena La cosa Che è stata E diventa Una cosa Partecipata Perché si Che è stata Che è stata Non è Che è stata In Che è stata Interessante In Certo Se è Scendo E Che è stata Dietro Interessante stanno generalmente rispetto all'asse della copia, quando vengono su è impensabile e cominciano ad andare su, come sono pronte giù, queste vanno vicine, al limite può essere che magari qualcuno si batte, però se la gente, non so che queste si batte, la gente sa che ci vede, sta sempre legata, può essere pure che qualcuno si sentite solo, è meglio ancora, se non si sentite solo, ma una parte della sera si sentite là, è un concetto in più, perché ora lo sta facendo, queste sedie cominciano a sapere, la gente c'ha la percezione, aspetta, ci abbiamo passato, la gente c'è anche la tensione, la gente c'è anche la tensione, la gente c'è anche la tensione, la gente c'è anche domani, domani, questa parola di domani, a me piaceva più l'idea di trovare nessuno, e quasi potrebbe essere il finale della serata che le stelle arrivano a te, e quindi questa cosa che abbiamo avuto di effetto bellissimo e coso, ce l'avremo incontrate, dove a un certo punto, dopo ve l'hai guardata e cosa così, non è più, non sono più una tolta un istante da te, ma se ne vedi proprio arrivare addosso, e a quel punto sei tu che ti sbosti, travalla, che arriva a terra insieme a te la stella. Però il fatto di farle salire, si nega le cose, però è... Io so che quelle sono sedie, però è un incanto, vedete che voi accende la stella, no? Sì, ma se... però gli svegliamo già... Cioè, non lo so, eh? Non lo so, le parlerei tranquillamente. È un po' macchinosa l'accensione anche, che lei diceva. No, non è macchinosa, perché noi ci siamo accendati, e non lo prese. Però se stiamo... Arrivano, come capi da capi, scusami. No, no, diciamo che se arriva nel trono, se le senti con la lucetta accesa, la stella, tre pezzi che vi si crea, è quello uguale. Beh, è bello anche quando vai dal cielo. È, 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 è. Comunque il confine evidente è quello scisa, per me, non c'è. Qualche essa che c'è di uno, c'è sotto sopra, neanche non penso a stare. Non c'è da un'accensione. Posso dire una cosa? Possiamo magari vedere quello che succede oggi con i ragazzi? Sì. E da quello che scopriamo oggi, magari ci viene l'idea per tutti. Sì, esatto. E tra l'altro, è proprio così, c'è. Non c'è la tua. Non c'è la tua. Non c'è la tua. Massimo. Massimo. Tutto bene? Tutto bene. Sceglie. Sceglie. Sì. Sceglie. però io ho tutta un'idea e però le finestre le avrei già lasciate accese e avrei lasciato non so, ma non c'è niente, c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente ma siccome adesso è tanto tempo non ne abbiamo perché mi dispiace, dobbiamo stare qua ma non c'è niente, non c'è niente così ah no no, perché ragioniamo solo su queste, non un'altra seria perché può essere anche interessante una sequenza di tre tipi di stelle prima entrano e vedono come se fosse una grande finestra, questa qua con l'orogiatto con quelle e tutti i resti con le pinette accese sulle sedie però non sono stelle poi volendo poi le spegniamo però potremmo anche spegnere quelle poi il terzo può essere quello cioè ci può essere anche una sequenza cioè quello che dobbiamo costruire oggi poverissimo che lavorano con gli attori qua stasera in questa specie di prova che dobbiamo fare è proprio questo cioè dare una drammaturgia alle cose è chiaro che più azioni riusciamo a fare più diventa anche emotivamente sorprendente secondo me Paolo secondo me concettualmente a più per me piace molto il fatto che salga cioè che le luci non ci siano qua al pubblico vengono a cercare degli angeli pistoni e poi salgono magari perché come se la presenza del pubblico sul parco la doppiasse c'è l'estellaggio sì sì c'è un rapporto diretto perché stai sentendo un concursi esatto alzi il furo e crema stessa con l'età con il fiore ma è così la prima chi è con me c'è il fatto quando noi ci sono tre assieme e fanno un lavoro e cinque quindi era anche una beve c'è un'idea che ci sono dei disagi diciamo sì così c'è si può cioè che in ma le vengono in l'argenta le copriamo sì sì invece un'altra cosa di quello più tecnico che ci sono grazie che se invece di avere una lucina per sedia avessimo proprio una carta che si usava in maniera di altre buccherellata adesso non c'è davanti che fa più stelle su una sola sedia non è complicato è complicato anche tutto l'uomo non c'è un sistema un po' quindi come sono non ci stelle neanche le cose che si faccia a cosa no come sono scusa un pari ospedici ma per quanto riguarda le diverse dimensione della nave dove escono non so per detto quel secondo la scalare di oggi da di là di l'ultima caminale secondo me sì però con i palettini quelli sì comunque vabbè facciamo un punto un punto però con i bassi bassi però la tua mazza ecco perché mazza no qui se è bassi bassi guarda qui proviamoci vediamo mettere sull'inia ce l'hai una cosa c'è che ci mette in dopo il fai di via questa non la non abbiamo tanto tempo ma non la non la non la la sua gestione che si è elevato e che non lo vediamo non lo vediamo non lo vediamo ma la marcaro che significa allora ricordiamoci di controllare speriamo che lo scosca ce le teniamo tutte queste successioni e oggi pomeriggio cominciamo la giornata però sappiamo già che abbiamo una partenza chiara che qui a Idomino accendiamo le bilette e poi piano piano senza correre le corde e mano mano qui non arriva e avete accetto una cosa in prima però scusate stiamo parlando su una cosa è possibile fare solo questa perdonatemi se no non ce la facciamo grazie allora la sequenza è chiara non c'è nessun bisogno di correre il raggio del postato non c'è nessuna pezza sa che al tempo giusto doveva fare la cosa giusta per un momento giusto era il posto giusto tanto è lui che vuole il cinema non è che c'è scritto su un libro magico però è fatta di sensibilità vostra cioè che dovete fare i conti anche con lo strumento degli attori perché loro non sanno che faremo questa cosa ma magari qualcuno che reagisce si reagisce grazie a tutti senza senza parlare cioè non dobbiamo comunicare dentro di noi né con loro una parola ma solo con il sorriso cioè tranquilli c'è chi entra bene seguiamo alle ponte e tagliamo le ponte tagliamo i giochetti ok tagliamo i giochetti da Niro non so se chiederà magari ma devi fare la parola perché devono fare questo proposto guardiamo a ricordare le ponte seguiamo tagliamo i giochetti abbiamo tre nuove segni e se non si trova scusa posso farlo senza chiedere cioè sono due sorriso che si non è nessuna segna sono tutte segnate con lo sconca cadastrale sulla sulla della quella è con la filetta quella è con il loro programma le sedie che ci hanno il filosofiaico che tira la filetta sono segnate molto bene è legato abbiamo capito però poi appunto scriviamo le cose tiriamo su più o meno almeno questo qua vediamo se è fatto l'utilizzazione dei tattori se succede qualche cosa interessante se è soltanto che loro fanno diventano i fanciutini non ho la bocca aperta a sottini a luci a stellarlo mi lascia che il tempo di conere se no tagliamo le seme facciamo le lucette prendiamo le cose 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 non c'è non c'è mi serve pure per capire domani sera come può reagire il pubblico nel momento come devi fare come devi fare e tutto ciò lo facciamo tutti sta più corte quindi quindi ognuno di noi aveva più seme di questo pomeriggio sarà così sia il pomeriggio il domani di più oggi perché se reagiscono perché se reagiscono noi non abbiamo una serie abbiamo già tirato su cioè comunque lavoriamo così con più corda a testa certo ecco qual'è il problema che c'è il mio figlio qua dietro che l'acqua che è con più steve insieme Laura anche qua però qua non abbiamo fatto io una per fare più penso che io ho fatto così una per me vabbè non è che adesso il mio reclutore sta saperne no 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 però però adesso c'è un progetto delle altre cose no? sì c'era e poi io non me le manderei troppo alte quelle che stanno troppo alte di vero per me venirebbe fare una cosa spazzata però hanno più alta dei 5 metri 6 metri almeno vabbè la più alta questa va a a 5 metri a quindi io ho pensato una cosa se noi illuminiamo tutte le zone alte no 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 cioè se se noi adesso non immaginiamo gli altri io ce l'ho fatto no no quelle le scelte e poi si diceva di stare qua mentre per la scala diciamo è un po' a rischio perché secondo me poi se c'è un minuto di qualche cosa è un po' 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 c'è un po' un po' un po' un po' di concentrazione di concentrazione invece il tempo per la calata non lo sappiamo adesso è un po' la sensibilità vabbè ci pensiamo eh e diciamo che è successa una cosa che ci ha fatto dire ok che caliamo che caliamo vabbè tanto non è una sequenza non è una sequenza non è una sequenza non è una sequenza possiamo essere messi sparpagliati in uno spazio e uno ci mette un tempo diverso da un altro quindi l'importante è che non ci sia una che cala e l'altra no cioè che ci sia un po' di sequenza però guardate che anche gli altri eh non è sotto devo cadere una cosa ma è sentite quello che c'è tutto che c'è tutto ci vorrei sono una meraviglia e non tutte devono avere lo stesso ritmo e c'è quella che era lassù che deve correre per raggiungere le altre ma è un po' di sequenza è bellissimo però Grazie. Ok, a questo punto, calate giù in silenzio, andiamo a scendere la lucella. Calate in silenzio, si impegniamo. Chi ha spento i servizi prima, pronto, quando tutte le sedie sono giù, a riaccenderli, il domino. No, andiamo con la luce. Il domino sono le luci che loro usano di lavoro. Spenta il servizio. Grazie a voi, se ti serve appunto la mia. Grazie a voi, quando facciamo il tasto, spezziamo il tasto. Allora, quando l'ultima sedia è arrivata giù, la persona che è andata a spegnere prima, che è Alessandra, va e accende e sale e continua molto lentamente, perché sennò non scioglie. Si può dare un segnale? Sì, allora. Allora, lo rifacciamo adesso, spegniamo di nuovo i doni, lo rifacciamo il movimento qua, poi meno, 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 allora, no, aspetta, ripartiamo, siamo ancora al momento in cui cominciano a calare le segnie, le segnie calano, ritmi diversi, capiremo insieme a Danilo qual è il momento in cui iniziare a scendere, scendono le segnie, a mano che le mie segnie sono calate, io mi affio lentamente, vado e spegno la lucetta, lo posso anche lasciare, posso anche sedermi per terra, oppure mi siedo sulla secca, quando l'ultima lucetta si spegne, tu vai, con tutta la camera, può essere 25 secondi di buio, 7 secondi, non è un problema. Prima spegniamo le lucette, poi, con calma, tornano questi quadri, quando la lucetta si spegniamo a lei, e poi, quando si partono i servizi, è semplice il servizio, facciamo da destra, va bene, allora, fai una buio. Grazie. 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 potremmo raggiungere già accese quelle che hanno però le torcette ieri sono state delle torcette giusto per dire poi ti cambi i pantaloni o lasciato in camerino tutti a laurea lasciamo uno scrittore scusate c'è l'anello è più facile facciamo che smontiamo come se come se fosse proprio quindi i ciocchetti aspetta i ciocchetti dove sono dobbiamo legarle insieme quanti sono le sedie? una persona che viene a prendere i ciocchetti e ce le passiamo 21 le sedie non lo facciamo no si no 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 No, tra l'altro voglio dire una cosa, alcuni hanno due corde, non siamo tutti più uno per se, alcuni hanno due corde, quindi legare due corde insieme anche, cioè tipo prima Alberto ha due corde, di legare le cittadini anche un geniale appoggiare a loro, anche io per dire, se lei ha... Grazie. 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 Se non sapete, se ognuno di voi è un tavolo che sta allegrando, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, perché ognuno dovrebbe avere la porta sua e se non è finito. Grazie. 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 Ragazzi scusate. Ale. Un'altra. Posso dire? Facciamolo un esercizio proprio, perché è un casino. No, ma poi comunque rischiamo di farmi una certa. È tutto sulla sensibilità, cioè, so, che in quelle secolite. Sì. Però se vedo che un anno sto andando a fare quello. Vuol dire che c'è un santo nel fatto che è scoperto. Quindi, come io, tutti, in una secolta che mi accorderà che sei. Perché vedo che tanto su di stavola. Senta tanta... Questa situazione, se no. Devi non rivolgere portare i nostri dati. Cioè, è perso di sbagliare. Allora, però, viaggia. Abbiamoci il tempo che vi si rimane. Questo è un po' che c'è. Lei è un po' che c'è. Non c'è nessuna pressione. Ragazzi, scusate. Quindi, visto che c'è questa cosa, prima di mandar su, quando li vediamo le scocchetti, guardiamoci attorno e vediamo gli altri. Sì. Sì. Perché se noi stiamo... Sì. 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 Magari, quando uno che passa in giro a continuare i nodi... è... ... 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